Partite al comando Zenas, poi dall'esterno è Mikai che gratamente si porta a condurre davanti a Be My Whisper e Zenas al suo interno, poi Excellent Beyond con all'interno Refuse to Bobbin, segue Virtual Game, Relco Germany e Bianco Coniglio. Cavalli a metà della retta opposta, posizioni invariate con Mikai che prosegue al comando, alle sue spalle Zenas all'interno e Be My Whisper a largo, poi a largo dei primi risale anche Relco Germany, quindi ancora Excellent Beyond con Refuse to Bobbin per linee interne con ai fianchi Virtual Game ed in coda Bianco Coniglio. Siamo ora lungo la curva con Mikai che si mantiene sempre in vantaggio davanti a Be My Whisper, quindi segue Zenas, Relco Germany, Excellent Beyond, Virtual Game, Refuse to Bobbin e Bianco Coniglio. Siamo in retta di arrivo con Mikai che mantiene il comando lungo lo steccato, al suo attacco si propone Be My Whisper seguito all'interno da Zenas e a largo da Excellent Beyond, più indietro Refuse to Bobbin che risale con all'esterno Virtual Game, poi Bianco Coniglio e Relco Germany. Siamo a 300 dal palo con Mikai che subisce l'attacco deciso da parte di Excellent Beyond, più all'esterno ancora Refuse to Bobbin. Nel tratto conclusivo sta passando Excellent Beyond, attaccato all'esterno da Refuse to Bobbin, nel tratto conclusivo Excellent Beyond all'interno, Resuse to Bobbin a largo, vicinissimi al terzo posto, Mikai davanti a Bianco Coniglio. Andiamo a rivedere le immagini con Excellent Beyond e Salvatore Basile che negli ultimi metri sono riusciti a passare di forza su Mikai, ma all'esterno si è proposto molto bene Refuse to Bobbin con Germano Marcelli. Sul palo i due sono veramente vicinissimi e bisognerà aspettare il risponso del giudice d'arrivo. Al terzo posto il 4 di Mikai, al quarto il 7 di Bianco Coniglio.